Un capitolo tutto da scrivere è quello relativo alla città metropolitana inserito nel libro Il Partito della Città, scritto da Franco D'Alfonso, assessore al commercio e alle attività produttive della Giunta Pisapia a Milano e presentato dal Centro Studi Grande Milano a Palazzo ai Giure Consulti. Dopo l'esaltante esperienza di Expo 2015 occorre non disperdere l'energia positiva accumulata e anzi sprigionarla guardando avanti, disegnando un futuro degno di una città metropolitana e globale quale deve essere la Grande Milano, forse l'unica città veramente europea del nostro paese. È solo da questa città che c'è la capacità di andare oltre gli interessi di parte senza anacquarli, cioè nessuno rinuncia alla propria identità, non è un fenomeno di trasformismo, però di mettere gli interessi di parte in secondo piano e far prevalere gli interessi della città e molto spesso, come ho detto prima, come dice Salvemini, come dicono tante altre persone, gli interessi di Milano coincidono con gli interessi del paese intero. Se più di una voce tra gli intervenuti ha sottolineato come nella campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco di Milano nella primavera prossima, la questione della città metropolitana sarà totalmente assente, non molla la presa sull'argomento il Centro Studi Grande Milano che la città metropolitana l'ha nel suo DNA, a partire dal nome. Beh, io credo che nel capitolo del partito della città l'urgenza della città metropolitana è ormai sentita, non sentita solo da questa sera, è sentita da anni. Il Centro Studi Grande Milano è stato uno proprio dei catalizzatori fondamentali della scrittura di questo capitolo e cioè dell'urgenza. Anche quando le istituzioni avevano lo zenit del consenso in tutti i livelli, in realtà la città metropolitana non è stata realizzata. Questa sera non abbiamo fatto retrologia sul perché questo tipo di città metropolitana ha difficoltà a realizzarsi, abbiamo portato l'altro di cultura della città metropolitana e cioè di una grandezza di Milano che non può più attendere, così come non possono attendere i problemi che vanno affrontati con la logica della città metropolitana. Parlo della sicurezza, parlo dei trasporti, parlo cioè di tutta quella progettualità che deve essere guardata solo con oggi con gli occhi della città metropolitana e quindi è fondamentale nel dibattito politico attuale del nuovo sindaco che sia un sindaco metropolitano.